Risponde la Spagna con Firri e con Claramunt. Claramunt. Ha stoppato Firri. Il gol con cui la Spagna si è portata in vantaggio. I spagnoli cercano di approfittarne dopo essere passati in vantaggio per raddoppiare o quantomeno per legittimare questo vantaggio che è venuto da un'azione isolata ma comunque da una buona predisposizione. Uriarte, tiro di Uriarte per la coppia. Tiro di Uriarte fortissimo all'incrocio dei pali. Ecco, rivediamo l'azione, la finca che venga la palla di Uriarte. Gran tiro di Uriarte all'incrocio dei pali per il resto di Zoffe. 2 a 0 per la Spagna. Ha raddoppiato Uriarte al 41esimo. Al gol di Firri, al 35esimo, la Spagna ha aggiunto ora quello di Uriarte. In questo modo, mentre Bette ora è costretto a giocare sulla sinistra perché si va spostando giù Ruka dalla parte occulta. Mentre attacca Prati, ecco il cross lungo di Prati. Colpo di testa di Gallieco, tira Boninsegna. Mazzola, ribattuto il tiro da Costa, finché esce il portiere. Prati, ne sbaglia a porta vuota. Fa chiesti, e desisti a cortare l'istante. Desisti. Vedete, Prati che ha sbagliato, ha liberato Costa. Se tira desisti a porta vuota, le segna. 2 a 1 per la squadra italiana al 34esimo del secondo tempo. Ha segnato, desisti. Ecco ancora il tiro di desisti, visto l'allentamento. Passa fra decine di gambe e termina in fondo alla rete. Desisti, ha segnato.